Sai cos'è la COFE? Si tratta della Conferenza sul futuro dell'Europa. Un'iniziativa comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione europea che offre ai cittadini europei un'occasione unica per ragionare sulle sfide e le priorità dell'Europa. Chiunque, a prescindere dalla provenienza o dall'attività svolta, potrà utilizzare questo strumento per riflettere sull'Unione europea che vorrebbe. Perché discutere del futuro dell'Europa? Perché il futuro è nelle tue mani e tu puoi fare la differenza. L'Unione europea necessita di sentire la voce dei propri cittadini. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione europea si impegnano ad ascoltare la voce degli europei e a dare seguito, nell'ambito delle rispettive competenze, alle raccomandazioni ricevute. La partecipazione, la condivisione, l'espressione della propria opinione sono le basi per poter determinare il percorso della costruzione di una democrazia europea attiva ed efficace. Ti piacerebbe sapere quando? La conferenza, lanciata il 9 maggio 2021, il giorno della Festa dell'Europa, giungerà a conclusione nella primavera del 2022, delineando i contorni di un'Europa rinnovata. Chi può partecipare? Tutti i cittadini europei di ogni contesto sociale e ogni angolo dell'Unione. I giovani, in particolare, possono svolgere un ruolo centrale nel plasmare il futuro del progetto europeo. Anche tu puoi farne parte. Visita il sito multilingue della conferenza per scoprire gli eventi più vicini a te e fai sentire la tua voce.